fosse un ipodromo di dittatori ok c'è un ipodromo di dittatori e io posso scommettere io non avrei mai scommesso su francesco franco è proprio inadatto è basso alla voce stridula non ha neanche la fisicità cioè tipo mussolini riempiva il balcone no hitler era mezzo artista mezzo teatrante strano comunque era matto ma c'è almeno quello no se voi sentite i discorsi o lo vedete non è niente di che è strano ma però però cazzo comunque lui ha fatto dittatore meglio degli altri quindi effettivamente più per più tempo sono altri evidentemente qualcosa di qualcosa in grado di fare e facciamo un attimo di facciamo così facciamo un po di biografia di franco e insieme ci mettiamo le premesse che non ha detto che non ha detto insomma coluzzi coluzzi e allora come vi dicevo fresco franco nasce a ferrol quindi nella galicia e da un padre che fa l'ufficiale di marina tra l'altro sono cinque figli lui è il secondo e ferrol è una città marinara vanno vieni vanno e vengono navi da guerra marinai eccetera c'è un grande ma e la sua carriera diciamo sin da in giovane età era quella di seguire le orme del padre un padre che pare fosse assente donna iolo insomma una situazione un po del cazzo quando era piccolo fatto sta anche se era una cosa se una cosa era chiara che lui avrebbe fatto la scuola ufficiale della marina e quella serve stata la sua strada c'è un però nel 1898 la spagna la bella idea di farsi detonare la flotta nella guerra ispano americana dove perde filippini e cuba e fondamentalmente la spagna di prima rivera decide di non spendere tutte queste risorse nella marina che non ha più motivo di esistere perché non restiva più l'impero coloniale e di puntare invece su quei pochi domini che erano rimasti che sono i domini spagnoli in marocco succede che il nostro francisco franco prova comunque a iscriversi all'accademia della marina viene scartato e con qualche rancore si iscrive alla scuola della fanteria a toledo da lì viene mandato in africa siamo negli anni dieci del novecento c'è la guerra del rif quindi la popolazione marocchina sotto l'esita spagnola si ribella si ribella è il momento e ne scoppia una delle guerre più più sanguinose insomma di diciamo tentativo di decolonizzazione e dalla quindi ci sono i ribelli marocchini dall'altra parte ci sono i militari spagnoli che devono riportare all'ordine la colonia franco è tra questi ed è un personaggio strano cioè è il tipico ragazzo statunitense sempre solo con capelli lunghi che sta sempre per conto suo finché a un certo punto falmato e arriva armato questo è fresco franco è un ragazzo molto giovane apparentemente senza interessi se non la guerra timido non prende parte le bevute con gli altri ufficiali non gioca d'azzardo pare che non sia nemmeno interessato al sesso e passa le notti a pianificare a contare e faceva l'inventario delle munizioni ci sono però degli episodi che delineano un po meglio il nostro ragazzo delle high school statunitensi a un certo punto una discussione tra ufficiali si parla di che cosa sia il valore l'onore e della paura del ruolo della paura nella vita di un militare e c'è questo episodio che viene raccontato dalla sorella e che franco con un ago lo avesse arroventato se lo fosse infilato nella mano e così serafico avesse affermato ai comilitoni che la carne che brucia fa un odore cattivo secondo episodio siamo nel rif franco è già diventato il più giovane capitano dell'esercito spagnolo ha 22 anni e al comando di alcune truppe coloniali li mette in riga non in maniera metaforica cioè li mette così in riga uno di questi che era il simpaticone della compagnia rompe la riga perché dice così per prendersi gioco dell'ufficiale che era basso con voce stridula e di cui giravano certe certe voci potete immaginare siamo i primi del novecento uno non è interessato alle donne e bene franco estrae la pistola e lo fredda sul posto quindi questo è questo è quanto succede una cosa la guerra in marocco è una guerra terrificante senza esclusione di colpi e li bisogna come dirà poi mola bisogna colpire duro e in modo che non sarà poi necessario colpire di nuovo ma è sempre necessario colpire di nuovo vengono utilizzate tutte le tecniche più infami della guerra moderna torture fucilazioni di massa eccetera eccetera e si crea una certa un certo legame un sodalizio diciamo tra gli ufficiali spagnoli che iniziano a definirsi anche una volta terminato terminata la guerra in marocco come appunto africanistas cioè sono quelli che hanno fatto la guerra in africa che legacy in un in un corpo sociale come l'esercito quelli che hanno fatto la guerra davvero sono quelli seri tutti gli altri e sono militari che sono magari graduati ma che sono sempre stati in caserma non contano un cazzo ha detto che franco riesce in un certo senso a guadagnare un vantaggio quando viene nominato dal governo come capo istruttore dell'accademia ufficiali di saragossa perché con questa carica riesce a attrarre altri africanistas e nell'accademia e quindi si inizia a crescere un corpo ufficiali che condivide i valori tra virgolette di quelli che hanno fatto la guerra in africa e diciamo l'epilogo quello ovvio ma drammatico e che poi le stesse tecniche che venivano usate contro le popolazioni incivili tra virgolette in africa poi verranno portate senza nessuna remora morale anche nella penisola iberica e va detto che c'è una tappa intermedia nel 1916 franco franco in africa viene ferito e alcuni hanno supposto che invece da qui che che smette diciamo l'interesse per le donne di fresco franco perché fresco franco a quanto si sa è a una ferita nell'inguine non si è mai ben specificato come cosa come perché dove esattamente però c'è questa cosa c'è dell'altro gospel siamo ormai nel gossip più totale c'è anche del gossip franco tornato dalla dalla dall'africa si sposa con una donna di alto locata insomma e i due profondamente cattolici naturalmente devono mettere al mondo la prole ma ci sono dei però giravano le voci che fresco franco non fosse particolarmente interessato al sesso ci erano voci anche che non possa proprio farlo per quello che ha successo in africa qualche anno prima e la moglie di franco carmen polo non è mai incinta e non si vede mai i segni della gravidanza e non che un giorno da un giorno all'altro appare questa bambina chiama carmen carmen sita che ufficialmente figlia di fresco franco e carmen polo cosa perché o me girano voci io ve lo dico visto che è un canale di gossip di dittatori del novecento pare che la bambina in realtà fosse figlia del fratello minore di francesco franco e di una prostituta che quindi la coppia francesco franco e carmen polo che non potevano probabilmente avere bambini l'abbiano adottata di nascosto e l'abbiano fatta passare come loro togliendo così di impitto in patto sia fresco franco sia fratello e questo è qua va detta un'altra cosa questa è una cosa che non sa molto agente ma che è tremendo il ruolo della chiesa spagnola durante e dopo la guerra civile questo è un capitolo molto triste però a certo punto in un mondo appunto dove comunque l'istruzione nonostante le riforme repubblicane era ancora saldamente in mano alla chiesa e non solo la distruzione ma anche insomma la sanità tra virgolette i religiosi per scrupolo di coscienza iniziano a fare dei magheggi un po strani cioè arriva la sindacalista partorisce la nota sindacalista partorisce le suore prendono il bambino si presentano qualche ora dopo e dicono è morto è nato morto è morto dopo non è vero il bambino viene consegnato invece a dei cristiani cattolici tutti di un pezzo ed è il fenomeno che assume delle caratteristiche mastodontiche c'è un livello di di omertà e anzi di fiancheggiamento alla pratica che arriva fino alle 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 alte sfere della chiesa cattolica stiamo parlando anche di vescovi è il fenomeno che passerà alla storia come quello dei los niños rovados letteralmente i bambini sequestrati una pratica terrificante che poi avrà anche un una sua emulazione in un'altra dittatura che è quella argentina la dittatura diciamo di vidella massena dove fondamentalmente si si fa questo o se non peggio cioè si fucilano i genitori e i ragazzini in tenera età vengono affidati addirittura molto spesso alla famiglia dei carnefici dei genitori biologici come sorta di rieducazione e sostituzione diciamo di genitorialità forzata una cosa vabbè quindi diciamo il ruolo della chiesa e in questo conflitto nella nella guerra civile spagnola per quanto mi riguarda è molto maggiore rispetto a quello che non fu per la chiesa italiana durante il fascismo dove anzi è la chiesa sempre in conflitto con lo stato e con mussolini si trovano degli accordi ma poi diciamo c'è più una sopportazione che un alleanza vera e propria ma in italia diciamo il massimo del moto anticlericale era già passato era stato nell'ottocento c'era stato solamente tra virgolette il bienio rosso e quindi la chiesa si era sentita meno attaccata motivo per cui insomma aveva mantenuto forse anche questa la mia speculazione forse ha mantenuto anche un'agenda politica più autonoma rispetto invece a quello che ha fatto la chiesa in spagna che si è buttata a pie pari nella nell'agenda dei golpisti insomma praticamente quasi subito bene e quindi siamo siamo negli anni venti francesco franco inizio continua a fare la carriera sotto primo e rivera negli anni venti agli anni trenta ripeto che c'è la dittatura di primo e rivera padre e riesce arrivare al ruolo di generale al grado di generale poi c'è la svolta del trentuno nel trenta primo di rivera si dimette va in esilio a parigi nel trentuno la spagna interna repubblica francesco franco francesco franco non ha delle convinzioni ideologiche fondamentalmente è un conservatore tendenzialmente cattolico ma non è un cattolico di quelli veri come salazar che proprio volevano un'agenda cattolica francesco franco è più è più è più un teppista a cui piace il potere ed è bravo a organizzarsi questo sicuramente e quindi vede un attimo che aria tira inizialmente lo contattano i golpisti ma lui non lo so era un personaggio diciamo di una certa fama regionale che ha l'occasione di saltare all'onore delle cronache nel 1934 nel 1934 i minatori asturiani gli girano i cinque minuti si armano c'è una sorta di conflitto e succede una cosa il ministro della guerra chiama francesco franco e gli dice sti cazzo di asturiani non sappiamo bene come gestirli e ovviamente il dobbiamo salvare la faccia quindi diciamo apparirà che le decisioni le ha presa il ministro della guerra però tu hai carta bianca tu prendi le decisioni mandami le carte io te le firmo e non faccio domande e così di fatto alcuni biografi di franco dicono che in questo tempo lui fa una sorta di stage da dittatore fondamentalmente e in 20 giorni 3.000 morti 30.000 tra torturati e incarcerati a questo punto franco diventa il genio diventa il salvatore della destra contro il disordine portato dalla sinistra da certa sinistra tendenzialmente anarchica sindacalista la repubblica che lo aveva utilizzato lo scarta il prima possibile perché capisce comunque che potenzialmente è un pericolo e siccome la repubblica spagnola era molto giovane non ricorda il detto di tenersi stretti gli amici ancora più stretti i nemici e fa l'esattamento l'esatto opposto cioè tutti quanti potenziali colpisti li prende e li disperde vengono mandati in africa nelle baleari nelle canarie nei posti nei quartieri nei quartelli nelle caserme di provincia e a franco tocca appunto le canarie forse il posto più distante dal teatro operativo fino a che appunto nel 36 c'è il pronunciamento pronunciamento tra l'altro che ha una storia tutta quanta sua quasi giornalistica in realtà andrebbe 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 fatta perché il pronunciamento vero e proprio avviene dopo diciamo una resa dei conti quasi personale allora ci troviamo a madrid siamo intorno al 10 15 luglio del 36 e niente praticamente c'è uno scontro tra un esponente del del hons quindi juntas offensivas nazional sindacalistas praticamente la falange e un comunista c'è uno scontro il il comunista muore e il falangista scappa i comunisti cercano cercano l'assassino per farlo fuori non lo trovano perché sto qua si era infrattato e decidono di colpire un'altra persona e cercano un altro compagno di partito del ragazzo che ha fatto fuori il comunista anche lui e si era dato alla macchia ovviamente qua capite che non è solo questioni di politiche perché loro cercano dei nomi concreti quindi c'erano anche delle rivalità personali come spesso accade e quindi i comunisti frustrati per la seconda volta decidono di fare forse il passo più lungo della gamba e vanno a beccare un ex ministro del governo primo de rivera che era un noto politico conservatore di destra lo trovano nel vicolo sbagliato e lo rapiscono e lo giustiziano proprio con colpi pistola alla nuca sembra che l'eco che ha avuto questo assassino a questo assassino diciamo politico abbia convinto i colpisti a dire ok settimana prossima facciamo il momento è il la popolazione è pronta perché arriviamo noi e salviamo la situazione quindi in realtà c'è un sacco di cose a dire e avevo signori è stato molto bello quindi niente buona serata grazie mille per avermi seguito ci becchiamo sempre nelle soli dei suoi di piattaforme e niente dall'accademia dei pugni presidio slow history è tutto alla prossima ora